ecco allora grazie per la vostra presenza e oggi si tratterà un argomento come diceva mirko molto importante molto attuale che sta veramente cominciando a prendere piede anche qui in italia e che è già diffuso in maniera epidemica nei paesi anglosassoni quindi in inghilterra negli stati uniti in canada con delle proporzioni dei livelli che sono nettamente più alte rispetto a quelli che attualmente ci sono qui da noi però anche qui da noi diciamo la situazione sta evolvendo e quindi anche i numeri stanno aumentando faccio una premessa come cristiani noi chiaramente siamo chiamati ad amare tutti e noi quindi proprio per rispondere a quello che il comandamento del signore amiamo tutti però ecco è chiaro che amare il prossimo non significa dovere accettare passivamente o essere conniventi di qualunque idea il prossimo porti la nostra attenzione quando idee o teorie vanno in netto contrasto con quello che è il nostro credo cristiano cattolico noi abbiamo il dovere di dire no non sono d'accordo sebbene io ti voglia bene purtroppo questo concetto non viene capito e recepito come tale in tanti settori in tanti ambiti però la verità è questa cioè io posso volere e voglio bene una persona però non vuol dire che devo condividere tutto quello che questa persona mi viene a diciamo proporre e parto innanzitutto con dei concetti chiave per noi cristiani cattolici e cioè innanzitutto ricordiamoci di quello che ha detto sua lucia di fatima ancora tanti anni fa quando ha detto che gli ultimi tempi sarebbero stati caratterizzati da il più grande attacco che ci sia mai stato la famiglia famiglia come è stata pensata concepita in principio da dio e quindi una famiglia basata sul matrimonio tra un uomo e una donna tenendo conto che il maschio e la femmina come scritto in genesi chiaramente sono stati direttamente per opera diretta creati da dio come tali e sulla base della sacra scrittura esiste solo il maschio e la femmina non esistono altre sessualità o sessi intermedi poi una cosa importante come principio è quella che nel vangelo gesù ha sempre detto che un albero buono da frutti buoni un albero cattivo darà sempre frutti cattivi questa proprio è una legge dello spirito un principio spirituale che è incontrovertibile e che gesù ha detto chiaramente nel vangelo un'altra cosa da tenere ben presente nel contesto del di questa condivisione è che nel nuovo testamento troviamo san paolo che dice chiaramente che il corpo è tempio dello spirito santo e poi abbiamo anche un versetto molto interessante che è quello che viene citato in due timoteo capitolo 4 versetto dal 3 al 4 in cui c'è scritto verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina ma per il prurito di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole mi riallaccio a questi versetti a quest'ultimo versetto biblico con quello che disse anche un tale che conosciamo tutti insomma perché viene spesso citato ultimamente che è chesterton che disse come ben sappiamo fuochi verranno attizzati per testimoniare che 2 più 2 fa 4 spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate siamo arrivati a questi tempi qui teniamo poi presente che nel diciamo diffondere determinate teorie determinate ideologie si è sempre cercato di farle accettare dalla gente comune dalla popolazione generale mediante anche l'utilizzo della cosiddetta neolingua di cui parla george orwell il quale disse se il pensiero può corrompere il linguaggio il linguaggio può corrompere il pensiero un esempio eclatante lo abbiamo per esempio nel caso dell'aborto l'aborto non viene definito come l'uccisione di un bimbo nel grembo della propria madre ma viene chiamato ivg con un acronimo interruzione volontaria di gravidanza questo linguaggio così edulcorato rende la cosa meno pesante per la propria coscienza l'anestetizza e fa sì che quindi diventi accettabile per le persone al punto che se un tempo ci si ribellava al pensiero parecchi decenni fa adesso invece questa cosa viene addirittura considerata un diritto fondamentale un diritto civile per il quale battersi è guai a chi lo tocca un altro concetto molto importante che di tipo psicologico ed è quello che è stato introdotto come anche molti di voi sapranno da overton è quello delle famose finestre di overton cioè quando una determinata ideologia o teoria vuole essere diciamo diffusa tra le persone ed è una ed è portatrice di idee che di per sé diciamo causerebbero una certa ripugnanza nelle persone stesse perché noi abbiamo comunque anche delle leggi naturali di coscienza dentro di noi al di là anche di quello che credo nostro cristiano cattolico però c'è una modalità tramite la quale per steps successivi si riesce molto gradualmente prendendosi del tempo ad arrivare a fare passare come accettabile una realtà o un'idea che all'inizio invece nella cercana maggioranza delle persone dà questa proprio ripugnanza e questo per esempio è successo con l'aborto ma è successo anche per esempio con l'eutanasia e adesso il rischio è che succeda anche con la pedofilia e con la zoofilia ricordo inoltre sempre per capire meglio l'argomento che adesso andrò a condividere una frase che disse tanti anni fa Henry Ford il fondatore della Ford Motor Company il quale asserì che la pubblicità è l'anima del commercio e capiremo il perché in questo contesto di questo argomento che stiamo trattando una cosa molto importante è questa non staremo qui a parlare di danni diciamo psicospirituali che derivano da quelle terapie che vengono promulgate e vengono diffuse dalle associazioni LGBT nel caso una persona abbia un determinato disturbo che è la disforia di genere se prima non fosse stato codificato questo disturbo che appunto era disforia di genere nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali l'ultima edizione la quinta e la quinta anche diciamo riveduta text revised quindi proprio l'ultimissima confermano l'esistenza di questo disturbo che consiste in pratica nel fatto che quando una persona ritiene mentalmente o interiormente di non sentirsi dello stesso sesso biologico che lei ha quindi ho un corpo da maschio però mi sento femmina ho un corpo femminile quindi un sesso biologico femminile ma mi sento maschio se questa condizione di disallineamento tra quello che io percepisco o sento di me e quello che io sono biologicamente mi causa un disagio psichico clinicamente significativo così come viene testualmente scritto in questo manuale è tale che vada a compromettere a meno mare il mio funzionamento generale in tutte le aree della vita per esempio l'area amicale, l'area del lavoro, l'area della famiglia, l'area degli hobby, l'area ludica eccetera eccetera quindi non funziono più perché sto tanto male per il fatto che non mi sento più quello che sono biologicamente quindi mi sento di un sesso diverso allora in questo caso qui può essere fatta diagnosi cioè i criteri vengono soddisfatti sottolineo come se ci fosse una persona che invece si sente di sesso diverso rispetto al suo sesso biologico ma fosse indifferente o comunque non avesse particolare disagio psichico a seguito di questo fatto questa diagnosi non si potrebbe fare perché per farla bisogna che questa persona dica sto male, sto molto male non funziono più nella mia vita di tutti i giorni e quindi ho bisogno di aiuto ed ecco che una volta che uno psicologo o uno psichiatra fanno questa diagnosi si parte con la proposta della terapia e quindi con tutti i danni che adesso come vedremo il tipo di terapia che viene proposto arreca a queste persone che ricordiamocelo sono delle persone di età che può andare normalmente tra gli 0 e i 17 anni quindi sono bambini preadolescenti, adolescenti quando è nata la teoria del gender? allora i primi scrittori che non sto qui a citare che hanno fatto pubblicazioni, scritto articoli o libri sull'argomento cominciando a delineare l'idea che una persona potesse sentirsi mentalmente di sesso diverso rispetto al proprio sesso biologico, questi scritti risalgono ai primi anni del Novecento quindi hanno più di un secolo e noi sappiamo che normalmente il nemico quando deve creare qualcosa di importante per arrecare un danno o distruggere l'umanità a livello globale si prende sempre circa un secolo perché sa proprio per le finestre di Overton che ci vuole del tempo per riuscire un po' alla volta a convincere le persone che una determinata cosa è giusta e va bene anche se inizialmente invece creerebbe ripugnanza oppure farebbe ridere o sorridere perché sembrerebbe alquanto strana, anomala, irrealistica quanto meno tuttavia la persona che viene considerata quella che per prima ha scritto un manifesto programmatico della teoria del gender è un professore che è morto nel 2006 che è di origine neozelandese ma che ha vissuto e lavorato per tanti anni negli Stati Uniti che è il professor John Money il quale scrisse un manuale, il più celebre si intitolava Men and Woman, Boy and Girl del 1972 in cui appunto teorizzava questa ideologia del gender questo uomo purtroppo è salito alla ribalta perché ha sfruttato una disgrazia che era successa ad una famiglia i due genitori avevano avuto purtroppo la vicissitudine di vedere che il proprio figlio sottoposto ad un banale intervento di circoncisione per Fimosi all'età di un anno per motivi accidentali è finito con un gravissimo danno al proprio pene insomma al proprio genitale che è finito bruciato per quel motivo essendo terrorizzati dalla situazione non sapendo a chi rivolgisi eccetera si rivolsero purtroppo a questo professore il quale cominciò sfruttando questo caso a mettere in atto le proprie idee e quindi cominciò a dire ai genitori che visto che ormai non c'era più il sesso di questa persona valeva la pena castrarla quindi togliergli anche i testicoli e fargli una vaginoplastica quindi trasformarla praticamente in una femminuccia già a quell'età lì questo ragazzo poi dopo è cresciuto a 14 anni ha capito o gli hanno detto che lui in realtà non era una femmina perché avevano cambiato anche il nome da Bruce era diventato Brenda poi dopo è successo che avendo capito a 14 anni quello che era ha chiesto lui di ritornare indietro quindi gli hanno fatto altri interventi chirurgici e ormonali demolitivi per farlo ritornare quello che era ma per modo di dire perché comunque interventi chirurgici di quel tipo non è che ti fanno tornare come tu naturalmente eri nato se non che lui poi dopo cresce poi dopo anche si fidanza si sposa ma nel 2004 dopo vicissitudini lavorative economiche negative e anche dopo purtroppo problemi coniugali con la moglie alla fine nel 2004 si è suicidato è una storia tristissima di una persona che è stata distrutta da questo professore che poi facendo delle indagini perché comunque il caso è venuto alla ribalta anche dei mass media ci sono stati dei giornalisti che hanno approfondito eccetera lui era dedito proprio a studiare e forse chissà anche qualcosa in più comunque era molto attratto da quelle che erano le perversioni sessuali e anche dalla pedofilia e cose di quel tipo tanto è vero che poi quando si seppe di questo caso la sua fama perché era molto ricco e famoso a quei tempi cominciò a declinare questa storia è contenuta in un dvd che si intitola il ragazzo senza pene che si può trovare anche su youtube oppure acquistare il dvd mentre il libro si chiama bruce brenda e david il ragazzo che fu cresciuto come una ragazza allora per quanto riguarda l'ideologia del gender che viene ovviamente sostenuta dalle associazioni delle comunità cosiddette lgbt quindi lesbiche gay transessuali bisessuali e poi ci sono anche tante altre lettere perché è un acronimo lunghissimo qqiaap che vuol dire varie cose insomma ecco che non sto qui a dire e sostanzialmente loro che cos'è che dicono dicono che esiste un sesso biologico che è quello con il quale tu nasci che è cromosomicamente determinato perché in tutte le cellule della femmina sono presenti i due cromosomi xx e nessuno glieli può cambiare mentre in tutte le cellule del maschio sono presenti i cromosomi xy e questi nessuno glieli può cambiare quindi sono presenti non solo nelle cellule sessuali ma in tutti i miliardi di cellule del nostro corpo chi è maschio è xy chi è femmina xx e quindi geneticamente è marcato così cioè in questa è la sua genetica e questo è come lui nasce e come parte già dal gremio materno così loro dicono però che a prescindere dal sesso biologico esiste anche un'identità di genere cioè quello che tu dici di sentire di essere che può divergere essere diverso da quello che è il tuo sesso biologico e dicono che questo nel corso dei decenni è stato è stato causato dovuto al fatto che di volta in volta ogni individuo di fatto è stato influenzato condizionato da quella che era la cultura o la società dove viveva come a dire tu puoi nascere biologicamente maschio o femmina però l'idea che tu hai di essere maschio o di essere femmina è stata determinata dalle idee che circolavano nella cultura e nella società dove sei vissuto quindi idee che alla fine hanno sempre fatto coincidere il tuo pensiero la tua idea di te con il tuo sesso biologico però loro dicono se è dovuto a questo allora evidentemente se tu fossi libero da condizionamenti culturali o sociali evidentemente con la tua testa potresti arrivare anche a dire ragionando riflettendo che in realtà il tuo che tu non ti senti come tu sei biologicamente loro quindi tendono a evidenziare questa il fatto che ci può essere una discrepanza e l'altro concetto poi ancora è quello di orientamento sessuale che un'altra cosa ancora cioè da chi tu ti senti attratto perché tu puoi sentirti attratto da persone dell'altro sesso quindi sei può essere eterosessuale ma puoi essere omosessuale puoi essere bisessuale puoi essere assessuale o pansessuale ci sono tante varianti loro in pratica asseriscono concretamente ed è questa la cosa che è incompatibile con il nostro credo cristiano che di fatto che non deve più esistere cioè non ha senso che esista il binarismo in campo sessuale cioè o maschio o femmina che è come dio ci ha creato perché l'abbiamo letto il versetto in genesi per loro tu puoi essere o puoi sentirti maschio puoi sentirti femmina ti puoi sentire né maschio né femmina quindi a sessuale a gender ti puoi sentire pan gender di tutte le sessualità tra maschio e femmina quelle comprese in mezzo quindi secondo un continuum 90 per cento maschio 10 per cento femmina e via dicendo secondo una possibilità di sfumature infinite intermedie tra maschio e femmina quindi in questa maniera qui viene distrutto il binarismo sessuale cioè basta col dire che siamo solo maschio e femmina perché c'è una infinità di possibilità e aumentano anche poi possibili orientamenti anche poi sessuali ecco ma in questa maniera qui viene smontato quello che dio ha fatto e che ha creato lui e viene smontato il concetto di famiglia tradizionale o naturale come dio la creata quindi viene di fatto distrutto quello che l'ordine delle cose come sono state create fin dal principio da dio quindi questa è una cosa intrinsecamente molto grave e non è assolutamente ammissibile allora ci si chiede com'è possibile che così tanti bambini adolescenti o preadolescenti qui da noi si sta iniziando però ripeto è una cosa ormai epidemica in inghilterra negli stati uniti in canada eccetera abbiano chiesto negli ultimi anni stiano continuando a chiedere di cambiare sesso ci sono le cliniche che sono hanno delle liste di attesa di anni e si tratta sia di bambini che vengono accompagnati a manina dalla mamma bambini anche di 3 4 5 anni perché dicono che vogliono cambiare sesso e la mamma li porta oppure possono essere anche degli adolescenti un po più cresciuti 14 quindi 16 anni che comunque diciamo almeno fino ai 16 necessitano comunque del fatto che un genutore li accompagni e che comunque li porti in queste cliniche sostanzialmente ci sono due categorie di persone insomma di ragazzi o bambini ci sono quelli che già di per sé presentano delle delle problematiche di salute mentale cioè dei disagi psichici quindi sono delle persone che per esempio possono essere già affette da depressione da ansia da insonnia da disturbi del comportamento alimentare qualcuno addirittura autistico altri che hanno ricevuto dei traumi precoci durante la loro infanzia magari traumi di tipo fisico di tipo psichico di tipo sessuale abusi sessuali oppure altri che hanno ricevuto maltrattamenti discriminazioni o bullismo a scuola quindi persone che o hanno proprio dei disagi importanti psichici disturbi oppure che comunque psicologicamente avendo subito degli abusi dei maltrattamenti eccetera sono persone molto ferite hanno delle ferite nell'anima quindi sono tutte queste persone qui sono delle persone particolarmente fragili e vulnerabili già di loro e questa è una categoria poi ci possono essere invece bambini adolescenti o preadolescenti che sono sani mentalmente che non hanno particolari disturbi o disagi psichici ma che diciamo vengono purtroppo martellati da una pubblicità che diciamo utilizza i mass media e i social media come principale mezzo di diffusione i quali a furia di sentire diciamo questi di essere più che altro anche condizionati da video che vengono visti all'interno dei social di ragazzi loro coetanei con loro stessi problemi che gli dicono io ho trovato la soluzione entrando a fare il percorso per il cambiamento di sesso che poi sappiamo che il sesso non lo puoi cambiare però l'illusione di cambiare sesso questa è stata la mia soluzione allora se il ragazzo si identifica e si medesima in queste persone per un meccanismo proprio anche di identificazione e imitazione emulazione perché dice stessi problemi stessa età questo mi dice che la soluzione era quella che ha scoperto che non era del sesso giusto e quindi mi dice che facendo il percorso lui si sta trovando bene allora uno che guarda un video di questo tipo è chiaro che poi dice ma sembra proprio che sia fatto apposta per me quindi anch'io voglio fare la stessa cosa e quindi parte un contagio con un effetto domino quindi c'è il concetto di contagio sociale ecco questo è un concetto da stressare sottolineare perché il contagio sociale è il principale motivo per cui c'è questa diffusione così epidemica di richiesta di cambiamento di sesso quindi di transgenderismo ecco da parte di queste persone poi bisogna dire che anche persone quindi bambini adolescenti sani come dicevo la seconda categoria sono comunque delle persone fragili intrinsecamente perché vivono comunque l'età evolutiva l'età evolutiva è intrinsecamente un periodo caratterizzato da trasformazioni da fragilità da dubbi da insicurezza e quali sono i fattori che possono aumentare il livello di insicurezza di queste persone e quindi renderle ancora più fragili e ancora più predisposte a cadere nella trappola del gender sono diversi i fattori allora ci può essere il primo fattore che è quello che la società attuale crea dei miti di maschio e di femmina che sono irraggiungibili quindi l'uomo è una donna che non deve chiedere mai bravissimo bellissimo eccetera eccetera per cui questi ragazzi cominciano fin da subito a frustrarsi perché dicono io non raggiungerò mai quel modello che mi viene proposto di maschio nel caso del maschio oppure di femmina nel caso della femmina poi ci possono essere eventualmente anche delle difficoltà scolastiche se uno va male a scuola e questo aumenta la sua insicurezza di base poi ci possono essere anche situazioni di bullismo e di discriminazione subite a scuola che feriscono profondamente questi ragazzi e quindi li predispongono se già erano insicuri ad esserlo ancora di più poi ci sono situazioni di famiglie di origine che purtroppo sono composte da genitori separati o divorziati ma soprattutto capita che il genitore che ha in affido il figlio magari conduca una vita un po' libertina nel senso che cambia frequentemente partner per cui il figlio si vede entrare a ogni settimana una persona diversa ecco dico per dire e quindi anche questo mina la sicurezza della persona e poi c'è un quinto fattore che è quello della sessualizzazione precoce di questi ragazzi perché l'invito e purtroppo questa è una realtà anche qui in Italia è ad avere dei rapporti sessuali precocissimi 12-13 anni quando la persona è assolutamente impreparata sotto ogni punto di vista per poterli avere e quindi finisce sempre diciamo frustrata cioè alla fine non è che provi cioè prova tristezza perché vede che la cosa proprio per la precocità dell'età non ne ha dato nessuna soddisfazione tutte queste cose messe insieme possono contribuire in un maschio a farlo sentire talmente insicuro e vulnerabile e fragile da dire ma forse il problema di base è che io anche se biologicamente sono maschio ma in realtà non è questo il sesso giusto per me forse cambiando sesso e diventando femmina le cose potrebbero migliorare quindi tutti questi aspetti che ho elencato potrebbero cambiare questa è l'illusione ovviamente diventando femmina e viceversa la femmina diventando maschio poi oltre a questo è un altro fattore di moltiplicazione di casi di persone che chiedono il cambio del sesso è rappresentata le cosiddette influencer quindi queste persone che se riescono a ricevere attenzione e ce ne sono alcuni che hanno tantissimi follower l'attenzione da parte di questi ragazzi riescono poi conquistando la loro fiducia a introdurli all'interno di chat di social media eccetera in cui ci sono queste community diciamo lgbt in cui loro sentiranno sempre parlare oppure vedranno video testimonianze di persone che diranno che hanno capito che il loro problema era di essere del sesso sbagliato e che quindi la cosa migliore che hanno potuto fare è stata quella di intraprendere il cammino per cambiare sesso ecco quindi poi un'altra cosa ancora sono i cartoni animati per esempio pensiamo a Peppa Pig, Teletubbies dove spesso ormai lo sappiamo vengono presentate coppie omosessuali oppure vengono presentati diciamo personaggi diciamo omosessuali oppure diciamo quanto mai anomali che non si capisce bene di che sesso siano ecco che anche questi possono comunque condizionare nell'età quella diciamo più precoce insomma durante l'infanzia in particolare e poi si aggiungono anche i telegiornali o le riviste anche scientifiche perché per esempio la CNN in un testo parlava proprio per non scrivere la parola donne scriveva metto lì il virgolettato individui con una cervice cioè per evitare di usare il termine donna per disabituare ad usare il termine donna moglie madre eccetera la donna è un individuo con una cervice mentre The Lancet che non è proprio l'ultima rivista ma è tra le più prestigiose autorevoli in campo medico il primo settembre 2021 sostituiva la parola donna con l'espressione corpi con vagina quindi questo per dire quanto questa strategia di marketing diffusa dappertutto con i canali che ho appena detto un po alla volta finisce col condizionare la mente secondo me anche degli adulti ma comunque di sicuro delle persone più fragili di età più bassa che sono appunto quelli nella fascia dell'età evolutiva e quindi chiaramente poi queste persone cosa succede che se per effetto domino alla fine dicono voglio provare anch'io andare da un esperto l'esperto che incontreranno nelle cliniche apposite sarà uno psicologo psichiatra orientato lgbt cioè secondo quella che la teoria del gender che gli proporrà come terapia principale quella che dà i migliori risultati la terapia ormonale eventualmente seguita dalla terapia chirurgica di transizione del sesso e quindi in un qualche modo convincerà questa persona questo adolescente a fare quella scelta che comunque alla fine capite che non è una scelta libera fermo restando che poi c'è anche un problema secondo me in importante dall'atto medico legale di consenso informato il consenso dovrebbe essere sempre ben informato però da testimonianze che siano avute in tantissimi paesi soprattutto in inghilterra e paesi anglosassoni stati uniti eccetera di fatto le informazioni non vengono date in maniera capillare o precisa come dovrebbero essere date rispetto alle conseguenze quindi agli effetti collaterali anche a non solo a breve ma a medio lungo termine gravi conseguenti all'assunzione di pillole ormonali o all'esecuzione di interventi chirurgici che sono di per sé invasivi e addirittura demolitivi devastanti praticamente tutto ciò però ha portato a che cosa concretamente ad un aumento dal 1000 al 4000 per cento quindi da 10 a 40 volte di più negli ultimi anni dei casi diagnosticati di persone con disforia di genere che è quella diagnosi che serve poi per proporre la successiva terapia medico chirurgica aggressiva che ho detto teniamo presente anche un altro dato che negli stati uniti negli ultimi 10 anni le ragazze tra i 12 e 17 anni che hanno chiesto di essere sottoposte a mastectomia bilaterale totale quindi l'asportazione di entrambe le mammelle sono cresciute di 13 volte negli ultimi 10 anni e quindi questi sono dei dati che devono farci pensare ovviamente ci sono dei falsi presupposti falsi o comunque non dimostrati dietro quella che è diciamo la proposta di transizione cioè di cambiamento di genere che viene avanzata da parte di questi psicologi o psichiatri esperti che portano questi giovani poi a fare questo tipo di di sottoporsi a questo tipo di trattamenti trattamenti che consistono in una prima somministrazione di ormoni che tipo la triptorelina di cui avrete sentito parlare che sono ormoni bloccanti la pubertà questi hanno in commercio in realtà delle indicazioni molto precise cioè vengono utilizzati o dovrebbero nei casi in alcuni casi di carcinoma della prostata nell'uomo in alcuni casi di carcinoma della mammella nella donna oppure nell'endometriosi o nella fibrosi dell'utero in determinati casi oppure nei bambini solo quando ci sono casi di pubertà precoce ma allì fuori di questo non avrebbero nessuna indicazione qui invece vengono appositamente somministrati a dei bambini o dei ragazzi sani proprio per bloccare la pubertà e una delle prime conseguenze che loro hanno è quella di portare nelle ragazze subito la menorrea quindi il ciclo sparisce ma poi il rischio è che prendano che possano rendere anche stabilmente cioè cronicamente nel tempo anche se poi smetti la terapia in un certo momento queste persone infertili o sterili perché anche se sospendi la terapia però questa nel frattempo ti ha prodotto un'atrofia delle gonadi cioè delle ghiandole sessuali che sono i testicoli e le ovaie come minimo quella persona figli non ne avrà più ma non è l'unica cosa questa perché poi sappiamo che dai 16 anni quindi nella seconda parte vengono somministrati ormoni cosiddetti cross gender hormones cioè ormoni contrari al cesso biologico che hai quindi nei maschi vengono dati estrogeni e antiandrogeni e nelle femmine antiestrogeni e androgeni lo scopo è quello di femminilizzare il maschio e di mascolinizzare per via ormonale la femmina giusto questo questi termini sono corretti femminilizzare e mascolinizzare non far cambiare sesso perché la loro idea è l'illusione che cambi il sesso il sesso non cambia ti sta solo femminilizzando e mascolinizzando quali sono le altre conseguenze di questi ormoni presi a lungo termine l'aumento di incidenza di carcinomi cioè di tumori maligni l'aumento della incidenza di ictus di accidenti cardiovascolari come gli attacchi cardiaci quindi di infarti di trombosi venose profonde di tromboembolie polmonari di una marcata precoce osteoporosi ossea in persone che non sono per niente anziane perché sono sotto i 18 anni la comparsa anche poi di peri di ursutismo nelle donne l'anemia e e quindi diciamo c'è un tasso di morbidità e poi anche di mortalità che si attesta complessivamente intorno al 60 70 per cento in queste persone che hanno fatto il trattamento anche solo ormonale di questo 60 70 per cento bisogna scorporare un 40 per cento di queste persone che quando hanno oltre i 18 anni ma mediamente intorno ai 20 22 23 anni quindi quando hanno quell'età comunque è sempre giovane nel 40 per cento dei casi muoiono per suicidio quindi c'è chi si butta sotto un treno chi si attacca un cappio al collo e si impicca e chi si getta dal settimo piano e si defenestra perché quando si rendono conto dopo la terapia ormonale e o quella anche chirurgica che non è successo quello che loro si illudevano che potesse che dovesse succedere cioè che non hanno cambiato realmente il sesso che rimane ripeto biologicamente lo stesso perché cromosomicamente determinato imprintato in una maniera irreversibile si rendono conto che di fatto il loro corpo è mutilato che hanno problemi fisici che prima non avevano che hanno un disagio crescente psicologico cominciano a deprimersi avere rimpianti rimorsi ansia insonnia depressione disturbi anche del comportamento alimentare neurissia bulimia cominciano ad avere ecco svariati problemi psichici e fisici per cui ripeto in cui nel 40 per cento dei casi finiscono in età molto giovane a togliersi la vita succede anche che quando loro nei casi in cui non se la tolgono chiedono aiuto perché perché chiedono di smettere la terapia ormonale però sotto controllo medico oppure di fare dei contro interventi di detransizione chirurgica quindi ritornare indietro quando poi indietro realmente non puoi tornare perché se comunque ti sei fatto asportare le mammelle l'utero le ovaie oppure il pene i testicoli nessuno te li ridà si puoi fare la vaginoplastica la falloplastica però alla fine non sono più le parti anatomiche con cui sei nato quelle che naturalmente dio ti ha dato quelle le hai perse irreversibilmente quindi comunque sono delle realtà cui devi far fronte che devi metabolizzare devi farti una ragione che non le avrai mai più però quando cercano aiuto proprio per avere un supporto psicologico o anche di tipo medico chirurgico per tentare di salvare il salvabile diciamo ecco che tutte quelle persone che le avevano incoraggiate dandogli la pacca sulla spalla seguimi fai questo percorso vedrai che ti troverai bene è efficace e sicuro non ha effetti collaterali sono minimi ecco si trova che queste persone scompaiono tutte non c'è più nessuno quindi se prima erano tutti per loro adesso che loro lamentano i loro effetti collaterali vogliono tornare indietro tutti completamente scompaiono e chi vi aiuta nei casi più fortunati quelle persone che sono persone comuni oppure se ci sono medici chirurghi psichiatri o psicologi che fanno parte di associazioni di volontariato che spontaneamente si offrono di dare una mano a queste persone però teniamo presente che la realtà è che queste queste associazioni quando tentano di pubblicizzarsi per far capire la gente guarda che se hai bisogno ci siamo e utilizzano ovviamente instagram facebook oppure youtube eccetera eccetera i social cosa succede che vengono oscurate quindi ci sono stati tanti casi di oscuramento di queste associazioni oppure di psicologi che vogliono fare una terapia riparativa no la stessa che è sempre stata consigliata per esempio da jeff nicolosi in passato la terapia riparativa appunto per per tornare diciamo eterosessuali da una condizione di omosessualità ecco questi sono visti come il fumo negli occhi cioè non deve esistere nessuno lo deve sapere non serve a niente cancellate lo oscurate la tiriamo via tutte queste cose qui ecco questa è la realtà che c'è purtroppo ci sono anche pubblicazioni cioè articoli che sono alla fine come conclusioni a supporto di questo tipo di terapia medico chirurgica aggressiva nei confronti dei di questi ragazzi o bambini affetti all'esforia di genere che sono pubblicate su riviste anche prestigiose come nature per esempio però ci sono stati dei ricercatori o dei professori che su altre riviste hanno un po' alla volta diciamo smontato tutti questi presupposti che venivano affermati anche su riviste ripeto prestigiose perché si sono resi conto che c'erano degli errori che possono essere stati errori nella metodologia dello studio cioè è stato costruito male con campioni magari poco rappresentativi o scarsi oppure sono stati fatti degli errori proprio nel nel argomentare le conclusioni errori concettuali e quindi le persone che veramente sono al di sopra delle parti e che sanno fare ricerca che sanno come uno studio va fatto spesso riescono a capire dove ci sono dove sono annidati gli errori i falsi presupposti su cui sono basate le conclusioni anche tra virgolette scientifiche che vengono portate a supporto di queste terapie devastanti ormonali e chirurgiche allora tanto è vero che ci sono già state fino ad oggi tre nazioni almeno che sono l'Inghilterra la Svezia e la Finlandia che hanno deciso da loro linea guida che la prima terapia che deve essere somministrata a questi ragazzi con questi problemi deve essere una terapia soft una psicoterapia di accompagnamento non deve essere quello di dire ti do subito l'ormone l'intervento chirurgico hanno verificato con i loro studi fatti all'interno della loro nazione evidentemente da persone oneste intellettualmente che la prima cosa da proporre è una psicoterapia per accompagnare queste persone non per portarle subito accontentandoli in qualche modo a partire con gli ormoni e tutto il resto e in Inghilterra c'è stato un caso cioè in Inghilterra c'è stata una tale quantità di bambini che hanno fatto la richiesta negli ultimi anni di transizione di sesso con liste di attesa di anni che questa situazione più volte è stata discussa in parlamento come caso di emergenza nazionale quindi hanno creato poi una task force tale per cui i ricercatori evidentemente al di sopra delle parti in quel caso hanno cominciato a indagare hanno indagato la famosa clinica Tavistock il centro più importante del Regno Unito e di Londra in particolare a cui afferivano ogni anno migliaia di teenager e si sono resi conto che tutti i leonterni dello staff sanitario medici infermieri eccetera sapevano del fatto sostanzialmente che proporre subito quelle terapie così devastanti e aggressive era sbagliato in quanto non supportato dalla letteratura scientifica quella valida quella fatta come si deve però nonostante tutto pur sapendolo la moda era quella di accontentare queste persone e quindi tutti cedevano al compromesso stiamo tutti zitti non so se tutto quello che sta dicendo vi ricorda qualcos'altro ecco non lo nomino però quello che è successo negli ultimi tre anni in un altro campo ecco però il light motive il modo di procedere vedete è lo stesso ci sono tantissime similitudini tantissime ne ho trovate proprio mi sembrava di rivivere certe cose recentemente vissute e quindi cosa è successo che queste persone che questa clinica è stata chiusa nel 2000 alla fine del 2022 quindi perdi e sono state cambiate le linee guida perché le linee guida nice che sono le più importanti dell'inghilterra sono tra il numero uno a livello internazionale hanno detto basta adesso la prima cosa che devi proporre è una psicoterapia di accompagnamento ecco una cosa molto importante da dire è un primo presupposto non dimostrato e che però viene portato in palmo di mano da coloro che propugnano questi questi trattamenti aggressivi è quello che la disforia di genere come l'abbiamo definita prima è una caratteristica innata congenita quindi tu geneticamente prima o poi la svilupperai perché chi la deve sviluppare la sviluppa perché geneticamente è predisposto e praticamente nasce così non è vero non c'è nessuno studio che lo abbia mai dimostrato così come non c'è nessuno studio che abbia mai dimostrato che una persona nasce geneticamente e congenitamente omosessuale queste sono menzogne perché c'è stato un recente studio di pochi anni fa fatto negli stati uniti da un italo americano un certo professor ganna che ha analizzato quasi mezzo milione di persone che si dichiaravano omosessuali ha fatto il prelievo di sangue e su mezzo milione che è un campione altamente rappresentativo altissimo come numerosità non ha trovato un cluster di geni che potesse dire è questo lo vedo ricorrere sempre in questa popolazione qui quindi possiamo dire che è un marker patoognomonico cioè distintivo significativo incontrovertibile del fatto che tu svilupperai una tendenza omosessuale quindi marker genetici di omosessualità oppure di transgender di transgenderismo di transessualità ad oggi dalla ricerca scientifica quella valida non sono mai stati dimostrati non sono mai stati emersi quindi è una bugia che ci siano delle basi congenite biologiche geneticamente determinate poi c'è un altro concetto importantissimo che non viene mai detto ovviamente perché viene taciuto apposta ma chi fa la ricerca in maniera onesta e perché qualche psichiatra anche negli stati uniti anche di alto livello c'è c'è stato e lo ha detto pubblicamente sa benissimo che ci sono diversi studi che attestano come questi bambini o adolescenti che a un certo momento dicono per tutti i condizionamenti che abbiamo sentito ecco io mi sento femmina in un corpo di maschio mi sento maschio in un corpo di femmina di fatto se tu li lasci tranquilli entro la fine della loro crescita puberale entro la fine della pubertà arriverà il giorno che dalla sera alla mattina si svegliano e dicono ai genitori oggi mi sento maschio nel mio corpo di maschio oggi mi sento femmina nel mio corpo di femmina magari avviene dopo un anno 2 3 4 però questo tra il 60 e il 98 per cento dei casi avviene con una media del 70 80 per cento vuol dire che su 7 8 casi di bambini tra 0 17 anni che dicevano mi sento maschio in un corpo di femmina sono ingabbiato in un qualcosa che non è mio eccetera se tu li lasci stare spontaneamente nel giro di qualche anno arriverà tra virgolette il miracolo che spontaneamente tornano indietro e quindi ritornano normalmente fisiologicamente a sentirsi quello che sono biologicamente se non vai però a lavargli il cervello e a condizionarli se li lasci semplicemente in pace o meglio ancora se li accompagni con una psicoterapia ma non di quella dove ti vanno a condizionare il cervello quella dove lo psicoterapeuta lascia parlare la persona l'ascolta in maniera empatica cerca di capire il perché questa persona e quando ha iniziato a dire che si sente di sesso diverso cerca di capire se questa persona aveva già di suo dei disagi psichici oppure no e di che tipo quindi fa un'anamnesi accurata e corretta e poi dopo la accompagna semplicemente senza influenzarla e condizionarla questa persona nel 70 80 per cento dei casi dopo un tempo x che può essere anche di anni si sveglierà un giorno dicendo ai genitori adesso oggi mi sento quello che sono questo è molto interessante non viene mai detto ed è un concetto da stressare a tenere a mente quindi non sono percentuali basse sono delle percentuali importanti poi un'altra cosa che viene detta purtroppo che non è vero comunque non dimostrata è che tutto questo aumento di giovani che hanno la disforia di genere che vogliono cambiare sesso diventare transgender eccetera è dovuta alla migliore capacità che hanno adesso i medici o gli psichiatri di diagnosticare questo disturbo che prima magari avevano più difficoltà di diagnosticarlo si sono affinati nella capacità di diagnosi e in più perché questi giovani hanno una maggiore tendenza a fare outing cioè a dirlo mentre prima se lo tenevano dentro questo può essere vero in una in una piccola percentuale di casi però il la verità è che questa diffusione epidemica di richieste di cambio di sesso è dovuta primariamente cioè nella maggior parte dei casi al fenomeno che abbiamo detto prima del contagio sociale quindi partendo da giovani o già col disagio psichico anche senza disagio psichico cioè sani ma comunque vulnerabili fragili per tutti i motivi che abbiamo detto nel momento in cui questi poi trovano testimonianze video di persone che gli dicono guarda io ho fatto così e quell'altro dice io mi identifico in te allora lo faccio anch'io e finisce che poi per effetto domino lo fanno tutti ecco questo è il motivo per cui sono così elevati di numero e questo è dovuto comunque alla base in principio a questo martellamento continuo che c'è tramite i social media tramite mass media tutto orientato in questo senso e quindi alla fine la pubblicità come diceva Henry Ford è l'anima del commercio e produce frutto in questo senso purtroppo e produce frutto anche economico notevole perché tantissimi sono gli incassi da parte delle ditte che producono farmaci come quelli che ho detto prima cioè gli ormoni triptorelina e quelli estrogeni androgeni antiestrogeni antiandrogeni e non non parliamo degli interventi chirurgici perché poi sono interventi multidisciplinari dove ci vuole l'urologo il ginecologo l'andrologo il chirurgo plastico quindi sono degli interventi complessi invasivi demolitivi devastanti anche psicologicamente che possono essere gravati da effetti collaterali importanti come le infezioni oppure complicanze legate per esempio delle protesi fatte di silicone e via dicendo quindi sono delle conseguenze importanti che tante volte non vengono spiegate in maniera precisa e a cui le persone vanno incontro ma che fruttano tantissimi soldi a chi le esegue e a chi le propone poi dopo le esegue quindi c'è un business enorme tanto è vero che per esempio negli Stati Uniti le cliniche private perché lì stiamo parlando ancora di privato adesso vedremo in Italia cosa sta succedendo anche qua in Veneto ma le cliniche private che fanno tanti soldi che si occupano di dare la pillola quindi di erogare proprio il farmaco al banco sono le cliniche di Planned Parenthood cioè quelle che vivono primariamente come incassi degli aborti adesso come seconda voce hanno gli introiti relativi alla vendita delle scatole di ormoni quindi è diventato la loro seconda voce di incasso ecco di soldi e ci sono anche tante testimonianze dove viene spiegato anche la modalità che viene utilizzata quando ci sono delle persone che entrano in quelle cliniche allora se da una parte c'è una faciloneria enorme da parte di questi ragazzi che spesso vanno in crocchio insieme vanno in gruppo con lo zainetto entrano dentro queste cliniche e con un clima quasi ridanciano così per scherzare dicono noi siamo venuti qua per fare la richiesta di cambiare sesso e si mettono magari a ridacchiare e cose di questo tipo qua al punto che anche le signorine che stanno alla reception tante volte sono rimaste colpite da questo atteggiamento le stesse signorine che non sono né psicologi né psichiatri né medici sono quelle che sul foglio devono poi andare a fare l'anamnesi quindi o che dovrebbero fare l'anamnesi per capire che tipo di paziente hanno davanti cioè uno in teoria dovrebbe fare un'anamnesi cioè una raccolta di dati importanti per capire la situazione e la condizione fisica e psichica di questa persona che ti viene a chiedere questa cosa no quindi devi diagnosticare se la disforia di genere ma se anche altri disturbi psichici non solo quella che magari da cui la persona è già affetta se ha problematiche mediche fisiche oppure non le ha invece le tre domande che secondo video testimonianze nascoste sono normalmente fanno sono queste signorine da quanto tempo è la disforia di genere che tipo di sintomi ti dà e sei già orientato poi dopo la terapia ormonale anche fare quella chirurgica oppure no queste sono le tre cose poi dopo queste tre cose in croce che vengono tirate giù dalle signorine vengono passate a dei professionisti che però sono dietro le quinte non si sa dove siano chi siano perché non parlano loro direttamente con i ragazzi parlano le signorine loro esaminano questi fogli con queste tre domande crocette eccetera e dicono ok i criteri ci sono sono soddisfatti il teenager potete iniziare a derogare gli ormoni previo il fatto che deve essere raccolta la firma del minorenne e ovviamente del genitore per iniziare a fare questo e quindi in questa maniera così molto facile si comincia il cammino anche questo non so se vi ricorda qualcosa rispetto agli ultimi tre anni rispetto al consigliare determinate cose e a raccogliere in una maniera molto diciamo discutibile il consenso informato quindi c'è una similitudine poi un'altra cosa che viene detta è che anche questa addirittura è considerata falsa sulla base dei dati reali della letteratura è che dicono ma noi quando facciamo la selezione per i minorenni stiamo attenti che siano soddisfatti certi criteri perché se vengono soddisfatti certi criteri di idoneità li ammettiamo a partire con la terapia ormonare altrimenti non lo facciamo di fatto in realtà in tutti i paesi occidentali quantomeno non esistono ad oggi dei criteri addirittura nella maggior parte del mondo che dicono chiaramente quali sono diciamo le caratteristiche per rendere una persona ammissibile a partire con quei trattamenti quindi questi criteri se ci sono sono vaghi sono poco chiari e non sono assolutamente precisi e soprattutto tendono tantissimo ad accontentare quasi nel 100 per cento dei casi la richiesta del minore quindi io desidero fare il trattamento ormonale per cambiare sesso e dall'altra parte il sanitario senza farsi troppi problemi ti dice sì fallo ti do l'avvallo tu mi firmi il consenso e partiamo con l'erogazione delle scatole di pillole ormonali poi c'è un'altra cosa anche da dire che l'altro presupposto ecco che viene e che questo è chiaramente falso che invece viene diciamo propugnato come vero è che questi interventi medico chirurgici così aggressivi si sono dimostrati scientificamente fino ad oggi secondo loro sicuri ed efficaci questa è una cosa invece che la letteratura scientifica attuale smentisce perché le evidenze solide cioè quelle basate su studi importanti fatti bene correttamente fino ad oggi hanno detto che invece ci sono prove insufficienti sia rispetto all'efficacia di questo tipo di terapia aggressiva che di fatto non migliora la tua salute mentale che sarebbe lo scopo che vorrebbero perseguire no perché se ti faccio sentire quello che tu credi di essere cioè femmina anziché maschio io miglioro il tuo star bene a livello mentale ecco di prove di efficacia di questo tipo non ce ne sono e soprattutto l'altra cosa è che nella bilancia rischi benefici i rischi che sono gli effetti collaterali anche gravi di cui parlavo prima sia per la parte ormonale che per quella chirurgica dicono che non ci sono prove che tu se anche avessi dei benefici questi superino i rischi quindi non c'è ad oggi nessuna evidenza che che i benefici se anche per assurdo ci fossero siano superiori rispetto ai rischi gravi e importanti che ho già detto a cui tu vai incontro al punto lo ripeto che il regno unito la svezia e la finlandia sono i tre stati in europa che hanno deciso di proporre come prima terapia una psicoterapia cioè qualcosa di soft di non invasivo e in controtendenza con gli altri stati in controtendenza anche con gli altri stati anglofoni tipo il canada gli stati uniti eccetera ricordiamoci sempre come prima abbiamo detto che comunque tra i vari effetti collaterali e rischi importanti anche se tu torni indietro anche se tu ti fermi dici basta stop ho cambiato idea c'è sempre la possibilità di rimanere a vita infertili o sterili poi c'è un quinto presupposto non dimostrato che però viene portato avanti dai fautori di queste terapie aggressive che è questo che dicono che la detransizione è rara cioè la richiesta da parte di questi ragazzi una volta che hanno fatto il loro ciclo ormonale e o chirurgico di terapie di tornare indietro è quanto mai rara si verifica in una bassa percentuale la narrazione il mainstream il pensiero dominante è quello infatti di fare di dare l'idea che tutte queste persone dopo questi interventi medico chirurgici siano tutte felici appagate realizzate come se avessero ottenuto l'obiettivo di avere cambiato realmente sesso e allora tante volte no e vengono mandati quelle immagini quei video in cui vedi queste persone che magari partecipano ai pride no e li vedi sui carri allegorici e vestite a torso nudo con i vestiti sgargianti che danno come l'idea no di essere le persone più felici del mondo questa è la narrazione che viene diciamo spruzzata come un fumo negli occhi la realtà è che chi invece singolarmente avvicinato queste persone in una percentuale non trascurabile che va dal 10 al 30 per cento almeno per difetto si è resa conto che dal 10 30 per cento queste dopo avere fatto il loro ciclo di terapie si erano pentite avevano manifestato un rimpianto e volevano tornare indietro con delle terapie di detransizione dal 10 al 30 per cento ma sono stime per difetto perché perché le persone che hanno il coraggio di affermare di essersi pentite di avere sbagliato di avere il rimpianto e che hanno il coraggio di dirlo ad un medico questo è il punto di dirlo ad un medico in modo di essere aiutate a tornare indietro sono un quarto del totale quindi ci sono tre quarti di queste persone che in un qualche modo soffrono in silenzio e non hanno la forza e il coraggio di fare outing di dirlo a qualcuno magari un sanitario per essere aiutate però di quelle che fanno outing dal 30 al 30 per cento chiedono di poter essere appunto sottoposte a degli interventi per quanto possibile ovviamente perché certe cose sono irreversibili di detransizione ecco questo per dire che l'infelicità la depressione che poi abbiamo detto porta nel 40 per cento dei casi al suicidio è in realtà molto diffusa è che viene messa a tacere non si deve dire perché l'immagine deve essere quella diciamo della persona felice realizzata che tramite queste terapie ha raggiunto il suo scopo e adesso sta bene con se stessa questa è la cosa che viene ovviamente diffusa tramite i mass media e anche in questo caso ecco già stare attenti perché certe segnalazioni o citazioni che vengono fatte anche in studi su riviste prestigiose come dicevo prima da parte dei fautori di queste terapie si basano su stime tante volte imprecise vengono utilizzati strumenti di misurazione inappropriati campioni che sono numericamente insufficienti o non rappresentativi oppure ci sono degli errori no ci sono dei bias degli errori proprio nella strutturazione dello studio lì sono cose che le persone comuni ma anche medici come me se non hanno una specifica preparazione non riescono a cogliere perché queste cose le puoi capire soltanto se sai come si fa la ricerca la metodologia della ricerca le persone che sono diciamo così molto preparate su questo argomento capiscono subito se uno studio è valido ed è meritevole di essere preso in considerazione o se lo puoi anche se pubblicato su una rivista importante buttare in un cestino perché non conta niente non ha nessuna validità dal punto di vista scientifico cosa dire poi dal punto di vista delle conseguenze adesso le passo un po in carrellata in rassegna del fatto di fare il percorso per diventare transessuale transgender allora una è quella della situazione nelle carceri un tempo se c'era un uomo che si sentiva donna lui veniva se faceva dei reati incarcerato nel ramo maschile perché si dava la più importanza al fatto che il suo sesso biologico se non avesse fatto cambiamenti di sesso ma solo il percorso ormonale era comunque quello maschile per cui veniva mandato appunto in cella con maschi biologici che si sentivano maschi succedeva che ovviamente spesso insomma in diversi casi diventava vittima di violenza sessuale di stupri di sodomizzazioni da parte dei carcerati maschi biologici questa persona allora le associazioni hanno pensato di dire protestando e no ma perché deve essere deve subire mettetelo dentro i rami femminili del carcere perché lui anche se biologicamente ancora maschio ma ha fatto il suo percorso ormonale si sente una femmina lo devi mandare con le femmine allora da vittima questa persona poi diventa carnefice perché finisce con attuare molestie violenze sessuali dentro le celle perché condivide la cella i bagni e tutto il resto con le donne e quindi tanti sono i casi di violenza sessuali fatte da queste persone transgender verso le donne biologicamente donne molte delle quali sono rimaste anche incinta e qual è la cosa che negli stati uniti per esempio è molto diffusa l'omertà tra le guardie carcerarie perché sanno ma hanno paura che poi dopo se dicono che il trans ha violentato la donna anche se la metti incinta poi può essere stato solo che lui non so chi potrebbe essere stato ovviamente però lui ricorrerà alle sue associazioni potenti lobby che politico economiche che sono dietro con staff di avvocati predisposti che lo denunceranno che denunceranno la guardia dicendo tu sei transfobo tu lo stai incolpando senza motivo solo perché ce l'hai con i transessuali e quindi quella guardia verrà 90 su 100 denunciata e quindi dovrà sottoporsi ad un lungo processo questo gli costerà stress tempo e soldi con rischio poi magari di di perdere anche la causa allora per evitare di proprio di andare a processo moltissime guardie carcerarie tacciono rimangono omertose e non dicono nulla un altro caso che quello che ci interessa forse di più è quello relativo delle conseguenze del gender della teoria gender alla cosiddetta carriera alias carriera alias e anche qua in italia sta prendendo piede anche qui nel triveneto gli ultimi due casi sono un liceo di venezia e un liceo di pordenone di cui i presidi hanno deciso di accettare queste richieste da parte di questi ragazzi che hanno detto io mi sento non so femmina pur avendo il corpo di maschio quindi voglio che non mi chiamo più paolo da oggi ma voglio che voi mi chiamate luisa benissimo allora i presidi del consiglio d'istituto e i professori si riuniscono deliberano fanno un modulo da compilare per la richiesta e dopo firmano per accettazione a quel punto cosa succede che e queste sono le conseguenze pratiche vengono creati per esempio i bagni unisex quindi ci saranno bagni per le femmine che si sentono femmine bagni per i maschi che si sentono maschi bagni unisex misti per quelli che sono maschi ma si sentono femmine o femmine che si sentono maschi quindi c'è una promiscuità enorme con tutto quello che ne può derivare ma ancora peggio ancora peggio è la condivisione per esempio in occasione dell'ora di educazione fisica degli spogliatoi perché lì si cioè pensiamo dei genitori che hanno dei figli delle figlie femmine che sanno che alle medie o alle superiori queste nella loro educazione fisica devono spogliarsi in spogliatoio con uno che dice di sentirsi donna e che di fatto non ha fatto la transizione chirurgica sessuale quindi biologicamente anche fisicamente il suo sesso è quello maschile che si spoglia con loro o in mezzo a loro o che fa la doccia nel caso di attività ginica o sportiva con loro cioè è questa la cosa che poi dopo succede concretamente e il fatto però che determinati presidi dirigenti scolastici si siano incapponiti nel volere portare avanti questa carriera alias che è illegale cioè in italia non c'è nessuna legge che ti permette di farlo ma vanno avanti o per motivazioni personali di tipo politico ideologico insomma con questa teoria ecco e quindi l'accettano ecco bisogna tenere ben presente che sono persone che stanno commettendo il reato di falso ideologico cosa che con lettere di diffida che sono state mandate a più di 150 scuole sta sottolineando l'associazione provita e famiglia che in italia è indiscutibilmente la numero uno per quanto riguarda la lotta al gender hanno anche degli avvocati ad hoc e loro dicono che di queste più di 150 lettere di diffida la maggior parte poi dei presidi ha desistito però c'è una piccola quota parte che invece ha continuato e anche quando il triveneto è successo ad andare avanti così cioè a andare contro la legge e con il rischio di essere poi ripeto denunciati per il reato di falso ideologico che è un reato penale purtroppo un'altra conseguenza del poi come fanno ecco a introdurre questo tipo di ideologia con i bambini gli adolescenti eccetera lo fanno tramite per esempio esperti che vengono chiamati a fare delle lezioni extracurricolari delle quali dovrebbero essere sempre avvisati i genitori perché se i genitori preliminarmente non firmano l'assenso loro non possono obbligare i figli ad assistere a queste lezioni questi esperti sono sempre o psicologi o psicoterapeuti oppure persone anche che non hanno particolari titoli che ti vengono con la storia dell'inclusività del non discriminare eccetera eccetera a rendere dotto a farti capire che nel mondo ci possono essere figli che hanno due papà due mamme che tu potresti magari e non lo sai non essere maschietto ma potresti essere una fuminuccia quindi ti insinuano il dubbio dentro a quell'età dove il bambino non è neanche capace di potersi difendere è come sparare sulla croce rossa perché non ha capacità e filtro di giudizio quindi proprio è una povera persona su cui passivamente viene scaricata addosso una teoria e lui la assorbe senza essere capace neanche di ragionarci intorno oppure gli adolescenti ma li sfruttano l'insicurezza la fragilità le cose che abbiamo detto prima la vulnerabilità e ti insinuano intanto il dubbio ma sei proprio sicuro di essere un maschio potrebbe essere che tu sei una femmina e magari cambi la tua prospettiva la tua visione e migliori la tua qualità di vita anche se ti rendi conto che è così e questo lo fanno tramite role playing simulata lo fanno tramite opuscoli che divulgano lo fanno tramite persone che vestite in maniera tante volte scostumato sconcia in maniera iper sessualizzata vanno lì a fare delle scenette con lo scopo di far ridere ma di fatto mandano il messaggio del del transgender cioè della di questa realtà e oppure lo fanno tramite cartone animati oppure lo fanno tramite appunto delle scenette che vengono fatte sempre in maniera molto ludica molto soft adatta ai bambini in maniera molto diciamo che si insinua facilmente nella mente delle persone e che li rende apparentemente gradevoli a questi bambini no teniamo presente che in italia tra bambini e adolescenti ogni anno sono otto milioni le persone che si siedono sui banchi di scuola e poi ci possono essere recite anche oppure la narrazione di favole oppure appunto come dicevo i cartoni animati ecco non tutti sono così per fortuna nel senso che non tutte le realtà istituzionali appoggiano questo tipo di carriera alias appunto di cui si parlava perché ci sono prendo alla spezia c'è il comune che si è riunito e che ha detto in maniera formale no a questo tipo di di carriera alias perché si configura il reato di falso ideologico ma qual è la cosa più importante che non viene detta che è importante dal punto di vista psicologico della carriera alias non è solo un divulgare le teorie lgbt le teorie del gender è perché ci sono studi che dicono che quanto più tu bambino o adolescente fai la richiesta formale di carriera alias alla scuola e tanto più precocemente tu la fai come età quanto più bassa l'età in cui tu fai questa richiesta tanto minore sarà la probabilità che tu possa nel tempo magari dopo la fine della pubertà regredire spontaneamente ed avere quella quel ritorno all'indietro quella guarigione chiamiamola come vogliamo spontanea di cui parlavo prima che si verifica di per sé se li lasci stare almeno nel 70 80 per cento dei casi ci sono anche studi che parlano del 90 rotti per cento se tu invece lo leghi con la carriera alias che comunque è un qualcosa se ci pensiamo che lega la persona perché da quel momento i bidelli compagni i professori il preside tutti chiameranno con un altro nome e quindi poi dopo fai fatica a dire torno indietro perché cioè fai un passo in un certo senso ma dopo hai tutti addosso che dicevano ma come ma tu avevi chiesto quindi psicologicamente è un legame che tu ti crei questo fa sì che la probabilità in termini percentuali che tu possa regredire spontaneamente di cui parlavo prima si abbassa notevolmente per queste persone che chiedono la carriera alias e tanto più precocemente la chiedono quindi età bassa tanto più alto è il rischio che non tornino più indietro il motivo per cui i presidi direttori scolastici dirigenti chiedono questa accettano di fare intraprendere questa carriera ai ragazzi qual è beh ci sono alcuni che sono convinti di per se stessi perché per la loro ideologia politica o quant'altro dicono per me va bene così è giusto così ce ne sono tanti altri invece che non hanno il coraggio di dire di no perché ritengono che poi dopo ci saranno delle ritorsioni sulla loro carriera personale perderanno il posto di lavoro oppure diciamo gli renderanno la vita difficile quindi preferiscono cedere piuttosto che dire di no teniamo presente però che uno psicologo molto famoso che si chiama Milgram che ha studiato l'effetto dell'autorità cioè autorità in senso lato quindi può essere l'autorità politica l'autorità civile per indurre le persone all'obbedienza ecco lui ha dimostrato che l'80% della popolazione generale non ha in sé le risorse psicologiche o morali per opporsi a ordini dati da un'autorità non importa quanto questi ordini possono essere illegali immorali o illegittimi soltanto il 20% in generale delle persone di un paese di uno stato ha la capacità di opporsi questo è venuto fuori proprio da uno studio che ha fatto questo psicologo quindi la tendenza no e l'abbiamo visto anche in questi tre anni ultimi a conformarsi al pensiero unico dominante è proprio anche è in parte anche una questione psicologica perché si è già visto che l'80% delle persone non ce la fa a dire di no cede c'è un piccolo 20% che magari ha delle motivazioni morali religiose eccetera che riesce proprio per quelle a mettersi contro corrente però 20 su 100 sono e la stessa cosa succede per quanto riguarda questi diciamo questi nel caso dei presidi poi teniamo presente che già la scorsa estate si era pensato di estendere la caliera alias anche nella bozza di rinnovo del contratto collettivo nazionale per le funzioni locali quindi parliamo di lavoratori pubblici a cui si pensava di dare la possibilità sul loro badge sul cartellino sulla posta elettronica personale quella del lavoro sulla targhetta sulla porta dell'ufficio sulle tabelle del turno orari la possibilità di mettere il nome che loro vogliono quindi paolo anziché federico oppure martina anziché stefano eccetera però solo limitatamente a questo quindi la bozza prevedeva in questo in questi casi di poter usare il nome che si vuole ma non però quando viene erogata la busta paga non quando c'è il sistema di rilevazione delle entrate delle uscite col badge non quando vengono erogati i provvedimenti disciplinari da parte dei datori di lavoro cioè sulle cose importanti che possono essere causa di contenziosi lì deve rimanere il tuo nome anagrafico su tutte le altre cose poi ti do il contentino e quindi poi benissimo rimanere con il tuo nome diciamo tradizione con il tuo nome che vuoi tu insomma con quello della carriera alias quindi c'è anche una certa ipocrisia perché sulle cose grosse l'idea era quella di mantenergli il nome anagrafico perché perché poi se succedono dei contenziosi non deve venire fuori che tu gli hai dato un altro nome e quindi hai fatto il reato di falso ideologico finché si rimane sulle cose interne al lavoro è una cosa ma quando si parla di documentazione o di cose che che hanno una valenza anche giuridica allora lì invece ci si tira indietro e e quindi ti tieni intanto quello che è il tuo nome come all'anagrafe ecco quindi poi l'identità gender viene anche ormai purtroppo messa all'interno degli libidi di biologia nei licei dove si dovrebbe parlare di scienza ma si parla ormai volontariamente si accenna anche all'ideologia la teoria del gender si diffondono sempre dei opuscoli soprattutto un'altra cosa che fanno è quella di eliminare non solo papà mamma quindi genitore 1 genitore 2 ma poi anche tutte le desinenze maschili e femminili per esempio vengono sostituite con asterischi con 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 simboli che che non fanno neanche parte della lingua italiana pur di non vedere i pronomi maschile femminile il la lei lui padre madre marito moglie eccetera vogliono eliminare il binarismo sessuale quindi usano ripeto simbologia neutra dove non è a specifica non determina un maschio oppure una femmina pubblica teniamo presente che un modo per potere appunto contrastare questo tipo di realtà a scuola è quello della scuola parentale cattolica ma anche questa adesso comincia a essere perseguitata perché nella scorsa estate per esempio nella provincia autonoma di bolzano hanno deliberato hanno emanato una legge provinciale che dice ok siccome hanno avuto tantissime perdite hanno perso molti studenti nella scuola pubblica durante la pandemia per vari motivi hanno incominciato a dire ma cosa sta succedendo quindi perché tutti vanno nelle scuole parentali anche non cattoliche allora per arginare la cosa che non sia mai che che perdono la possibilità no alla fine di indottrinare nella scuola pubblica gratuita queste persone allora hanno pensato bene dire ok ve lo permettiamo però a certe condizioni molto restrittive noi vogliamo venire a vedere di persona e quindi controllare chi insegna cosa insegna chi sono le persone chi va chi non va la qualità dei professori dei maestri eccetera quindi hanno cominciato a rendere un po più difficile diciamo un po più controllata la creazione di questo tipo ecco di scuola e questo l'hanno fatto in una provincia autonoma dove potevano appunto deliberare a livello provinciale però è una realtà questa ecco non parliamo poi della diffusione purtroppo all'interno della chiesa la realtà delle conclusioni del sinodo di cui anche Mirko ci ha parlato recentemente del sinodo tedesco non c'è niente da fare hanno detto che accettano praticamente i principi del gender motivo per cui una delle prime conseguenze veramente che fa tanto rabbrividire è che una donna che si sente uomo potrà entrare in seminario e diventare alla fine prete perché si sente uomo anche se biologicamente è donna quindi è una cosa insomma veramente pesante dal punto di vista spirituale e per il nostro credo insomma e pensare che nel giugno del 2019 quattro anni fa il vaticano in realtà tramite la congregazione per l'educazione cattolica firmava un documento intitolato maschio e femmina li creò che in 57 punti mostrava il carattere innaturale antiscientifico dell'ideologia del gender io non so poi dopo come sia andata a finire perché c'è una deriva in atto non è da parte ecco di tutti di tutti diciamo gli altri prelati ecco della chiesa perché vabbè la situazione la conosciamo in in germania e anche purtroppo anche in belgio che si segue la stessa scia però per esempio ci sono diversi vescovi cardinali degli stati uniti che si sono posti formalmente a questi interventi chirurgici di cambio di sesso ricordando che il corpo è tempio dello spirito santo che uno non può cambiare e farsi operare così perché ha delle voglie e così che gli vengono di cambiare il proprio sesso biologico oppure c'è un cardinale muller che ha detto fermamente che nessuno può decidere di benedire le coppie gay ci sono altre realtà come l'arcidiocesi di guadalara in messico che invece emette certificati di battesimo a persone transgender biologicamente maschio che si sente femmina perché vogliono rispettare la sua auto percepita identità femminile quindi anche nell'america centrale purtroppo è partita questa cosa così ci sono anche comunità di suore che hanno formalmente aderito alla difesa dei diritti di queste persone ma l'errore secondo me cioè è sempre quello cioè non è tanto di non voler bene alle persone è il fatto che il fatto che tu non accetti quello che loro dicono che pensano ma tu gli vuoi bene lo stesso non vuol dire che non gli vuoi bene invece lì viene tutto travisato tu sei un nemico io ti denuncio sei transfobo omofobo perché il fatto che non accetti questa mia teoria significa che tu sei contro di me i vescovi scandinavi si sono mantenuti un po' ambigui e poi bisogna dire che anche qua purtroppo in italia diverse diocesi hanno cominciato a impostare diciamo weekend di spiritualità diretti da sacerdoti su proposta di persone aderenti all'ideologia lgbt nella chiesa cattolica quindi questo tipo di incontri diciamo o di ritiri di fatto sono sono già iniziati in irlanda la scuola cattolica cerca di fermare il transgenderismo di stato e in italia la cosa importante triste è che una realtà come quella degli scout ha ceduto completamente al gender perché già nel momento in cui tu vuoi scrivere tuo figlio troverai nel documento ufficiale stampato non c'è più genitore oppure padre madre ma genitore uno genitore due lo fanno già in più hanno deciso di invitare nei pomeriggi in cui si vedono magari nei weekend il sabato periodicamente degli esperti a parlare di gender ai ragazzi che appunto seguono gli scout quindi attenzione perché loro hanno proprio già deciso che è giusto fare così non parliamo poi di quelle che sono le multinazionali dei cartoni animati mi riferisco alla disney che si è impegnata attivamente a produrre più film da adesso in poi per bambini con storie lgbt una cosa che riguarda la disney purtroppo del mese scorso parlo di marzo 2023 è che il 16 marzo scorso la disney ha organizzato il cosiddetto disney pride in concerto concerto fatto dal san francisco gay men's choir quindi un coro lgbt il quale ha pubblicato un video in cui veniva cantata una canzone che testualmente recitava le seguenti parole convertiremo i vostri figli in modo silenzioso impercettibile e non ve ne accorgerete nemmeno è dichiarato è detto per cui ecco sì ecco quindi queste sono diciamo alcune delle riflessioni che si possono fare su questa teoria o ideologia del gender purtroppo ecco sta si sta diffondendo sempre di più anche in italia quindi non va sottovalutata la cosa e qui in veneto come sapete e concludo è stato deciso a livello regionale che il policlinico di padova diventerà il centro di riferimento regionale per la diagnosi e per il trattamento delle persone affette da disforia di genere quindi e la volontà è di mettere questi trattamenti come lea cioè come i livelli essenziali di assistenza vuol dire come nel caso dell'aborto che sono a carico delle tasse dei cittadini mentre almeno in altri stati tipo canada stati uniti inghilterra insomma c'è il privato mentre devi anche pagare costano invece l'idea è quello di mettere tutto a carico dello stato o della regione insomma ecco purtroppo a noi spetta ecco diffondere un po questi dati che abbiamo condiviso e farli conoscere quelle persone che purtroppo non li conoscono perché il non conoscere le cose fa sì che tante bugie riescono a diffondersi e a trovare credito soprattutto tra i più giovani che sono i più fragili i più indifesi grazie dottore federico fagioli grazie a tutti